Una vanga, sporca di sangue, ritrovata non lontano dal luogo del delitto. Potrebbe essere questa l'arma con cui Irfa Muhammad Arana ha ucciso Letizia Girolami, la psicoterapeuta ritrovata senza vita in un campo a Fogliano della Chiana. Sull'attrezzo agricolo, ritrovato dai carabinieri nella tenuta di famiglie e sequestrato, saranno adesso svolti accertamenti scientifici da parte dei RIS. Il 37enne pakistano, ex fidanzato della figlia della vittima accusato di omicidio volontario, l'avrebbe uccisa con uno o più colpi alla testa. A stabilire l'esatta dinamica della morte sarà l'autopsia sul corpo della donna che sarà eseguita domani dall'equip del professor Mario Gabrielli a Siena. L'esame autoptico dovrà rispondere anche ad altri quesiti, dall'orario della morte al numero dei colpi inferti fino alla compatibilità con l'arnese ritrovato. Il 37enne, dopo la confessione del delitto a poche ore dal ritrovamento del corpo, si è chiuso nel silenzio. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, dopo aver richiesto la presenza di un interprete, si è infatti avvalso dalla facoltà di non rispondere. Il GIP ha convalidato il fermo e disposto alla custodia cautelare in carcere. Resta ancora da chiarire il movente del delitto.